Sì, sono Laura Rabericati della Sisti di Milano, un'azienda che produce gioielli esclusivamente a mano. Lavoro con mia sorella, mio padre e un'equip di artigiani specializzati. Produciamo per famose griffe italiane e straniere di cui chiaramente non posso fare il nome. Ci siamo innamorati della collezione di questa nuova designer e abbiamo deciso di intraprendere questa avventura insieme, producendo tutti o parti dei suoi disegni da noi considerati più significativi. Sono Maria Oliva, disegno per la Casa Sisti e le mie creazioni nascono da un pensiero, un concetto, un sentimento che è quello che è il piacere portando i pezzi che creo. Questo per esempio è un amore profondo, un taglio in un anello con delle pietre rosse, oppure delle costellazioni, dei seni zodiacali che però riportano proprio il disegno che c'è nel cielo, proiettato nel planetario. Grazie. 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 Grazie.